Tradizione, accoglienza e tranquillità insieme a un ottimo rapporto qualità-prezzo sono le caratteristiche principali della trattoria toscana di Porto Maggiore che garantisce ai suoi clienti la massima professionalità oltre ai prodotti di prima scelta. Pane, pasta e dessert sono preparati quotidianamente in casa. Le carni, i salumi e altri prodotti tipici sono reperiti ogni lunedì in Toscana. Le carni di Cinta Senese arrivano direttamente da Monteriggioni d'Arbia di Siena. La gestione familiare vede protagonisti in cucina lo chef Giancarlo, detto Baffino, e in sala Tomasa Tugnoli, detta Tommy. Marito e moglie che hanno scelto di mantenere pochi posti per poter offrire un servizio sempre accurato. Trattoria Toscana offre una cucina varia e prettamente toscana, dai primi piatti alla griglia con braci. Il menu della carta varia con le stagioni, per avere ingredienti sempre freschi, piatti semplici e genuini, nati dall'esperienza, dettati da un forte legame con il territorio. Buona è selezionata anche la carta dei vini, che varia dal rosso toscano al brunello di Montalcino. Dal martedì al venerdì il pranzo propone sempre convenienti offerte giornaliere. Trattoria Toscana è pizzeria anche da asporto e propone un impasto con solo lievito madre e ben 36 ore di lenta lievitazione a temperatura costante. Il locale può ospitare piccole feste per ricorrenze ed eventi. Un angolo di Toscana vicino a Ferrara. Il locale può ospitare piccole feste per ricorrenze ed eventi.